Finalmente, perché dopo tutto questo tempo sentivamo proprio la necessità di trovare la gara che è la cosa fondamentale per i ragazzi, così per mettere in pratica poi tutto il lavoro che si fa durante la settimana. Ovviamente il clima è buono, c'è tantissima voglia di ricominciare perché alla fine tutti facciamo questo lavoro per poi giocare le partite, i ragazzi hanno proprio un'esigenza, proprio dovuta all'età di sfogare questo tipo di energie. Siamo contenti che si possa cominciare, siamo contenti che la società ci abbia permesso di poterlo fare perché è una cosa che va sottolineata, noi non abbiamo praticamente mai smesso di lavorare e questo sicuramente è una cosa importante e che tutti noi abbiamo apprezzato. Abbiamo giocato il test match sabato scorso contro il Mantua e le cose sono andate bene, al di là del risultato soprattutto dal punto di vista della prestazione, che è quella che a noi interessa perché ovviamente in un campionato così particolare come quello che stiamo affrontando noi, con tutto quello che è successo, che non occorre stare qua a sottolineare, diventa soprattutto importante che i ragazzi abbiano la possibilità di avere questo tipo di confronti, al di là della classifica, al di là dei risultati perché è una necessità proprio per poi dopo vedere quali sono i ragazzi che avranno le capacità per poter fare questo lavoro nella vita.